eccoci di nuovo in diretta ancora buongiorno ai nostri radioscoltatori allora con me adesso c'è il regista saronese che già conoscete perché è già stato nostro ospite luciano silighini garagnani buongiorno e benvenuto buongiorno buongiorno a tutti quanti e grazie per l'ospitalità come sempre grazie a lei e oggi siamo qui per parlare del lavoro di cui abbiamo già avevamo già presentato nel mese di gennaio se non ricordo male il lavoro sulla resistenza che state girando nelle nostre zone parlando proprio degli episodi della resistenza di nostri concittadini esattamente racconti partigiani racconti saronnesi siamo arrivati al giro di boa come vi avevo anticipato sanno otto episodi ne abbiamo girati quattro mancano più gli ultimi gli ultimi ciac del quarto episodio che gireremo tra l'otto quindi lunedì torniamo sul set fino al 24 e poi abbiamo terminato le prime le prime quattro puntate poi andremo avanti perché comunque alla fine come immaginavo e come abbiamo anticipato più si entra all'interno della della storia più si scoprono tantissime situazioni e più viene la voglia di raccontarle di rendere partecipe al pubblico di questi personaggi che purtroppo spesso sono sono dimenticati no no molto bene il fatto capisco benissimo il fatto di poter approcciare no approcciare certe realtà vengono alla luce delle cose che altrimenti non si conoscerebbero no tante persone non conoscono e questa è una cosa importante esatto per esempio quando nel primo episodio come vi ho raccontato si è dedicato ad agostino vanelli il primo sindaco della resistenza post post 25 aprile qua a saronno e proprio quando la gente cittadini hanno saputo che stavano raccontando la sua storia spontaneamente si sono presentati raccontando aneddoti che alla fine hanno riempito hanno riempito la sceneggiatura infatti a me piace piace ampliare le situazioni rendere comunitarie e devo dire veramente che questo progetto è realmente un progetto comunitario perché ogni ogni piccolo cittadino ha sentito la necessità di raccontare un episodio personale di incontro e hanno arricchito fondamentalmente la sceneggiatura un tempo si diceva la sceneggiatura fatta a quattro mani io direi quasi a 38 mila mani perché sono stati veramente tantissimi saronnesi che hanno sentito il bisogno di raccontare la loro esperienza e quindi sarà un bel progetto a cui noi teniamo veramente tantissimo e presto vedrete almeno in anteprima il primo episodio quindi sono quattro quelli che avete girato finora uno a saronno e gli altri in che zona sono tutti nei rintorni di saronno fondamentalmente noi partiamo da personaggi di saronno abbiamo raccontato la storia di cosino vanelli abbiamo i von trebbi aurelio legnani personaggi che conoscete tutti quanti luigi caroni bastanzetti personaggi proprio del nostro territorio e poi ci siamo allargati raccontando i personaggi che si sono incontrati tra di loro e alla fine viene fuori una realtà molto condivisa perché tutte le persone che hanno fatto la resistenza nell'area io storicamente vengono chiamati i partigiani bianchi diciamo tutta l'area liberale l'area cattolica alla fine era tutta legata una una con l'altro e quindi abbiamo raccontato veramente storie che alla fine si allargono sul territorio di varese arrivano nella zona della val d'ossola che fondamentalmente storicamente era legata al nostro territorio e alla fine viene fuori un corollario incredibile di persone che spinte veramente dalla libertà dalla voglia di libertà dai ideali cristiani dai ideali liberali la volontà di creare un'italia nuova e si sono ritrovati in quei punti e non hanno avuto nessun tipo di diremo nessun tipo di freno a essere pronti a rinunciare non c'era qualunque cosa pur di rincorrere la libertà questa cosa che noi ormai abbiamo quotidianamente quasi non ce ne diamo conto anche se a pochi chilometri da qua ancora si combatte e si muore per cercare la libertà certo certo verissimo ecco come organizzato il film è un nonno che racconta la storia inizia esattamente è strutturato in questa maniera qua allora due bambini due ragazzi di 11 anni ragazzi delle medie ricevono a scuola l'incarico di intervistare fondamentalmente i nonni o i genitori meglio nel caso i nonni per chiedere di parlare della resistenza questi due nipotini un po anche stanchi non lo sapete non lo vogliono che storia non se ne frega non c'è interessa incominciano a parlare con il nonno a inizio c'è proprio una mutazione si vede proprio chiunque ha i bambini lo sa che noi che abbiamo spesso a meno che non hanno proprio una passione rimangono un pochettino così scocciati poi si vede piano piano che più il nonno incomincia a raccontare questi episodi più loro si fermano incominciano a appendere dai labba del nonno a un certo punto la nipotina prende un blocco un blocco da disegno mentre il maschietto continua a prendere appunti lei incomincia a prendere un blocco di disegni e a disegnare quello che la sua fantasia gli trasmette cioè i volti che il nonno sta raccontando e incomincia a disegnare l'immagine che lei ha di questi personaggi e piano piano in realtà lei sta disegnando il ritratto degli attori che interpretano questi personaggi e questi disegni qua prendono vita e parte la storia che noi andiamo a raccontare ma bellissimo facciamo un break musicale dopo continuiamo bene allora ci ha presentato luciano sirighini il suo film al quale stanno lavorando però sarà già presentato perché sono otto episodi ma gli otto ma poi ce ne ce ne parlerà meglio lui però il primo episodio verrà presentato in giugno esatto con un evento specifico specie noi siamo arrivati alla sesta edizione dei premi cultura che questo premio che ho creato io ormai sei anni fa per dare un riconoscimento a tutte le persone che fanno cultura sul territorio o hanno un legame particolare col territorio due anni fa abbiamo avuto beppe fiorello che era venuto qua in quanto ha interpretato la storia di enzo muscia con l'amico nicola campiotti per rai 1 e abbiamo creato questa questo format che continua ad andare avanti bene con un ottimo riscontro e quest'anno durante l'evento che faremo alla fine di giugno regaleremo ai cittadini la la premiere diciamo del primo episodio quello dedicato appunto da agostino vanelli quindi sarà il premio cultura che quest'anno sarà strutturato con una sfilata di moda unico ovviamente sempre le premiazioni delle persone che sono distinte sulla cultura qua sono un mini concerto anche di musica di musica lirica visto che vedo che sul salanno prende sempre più piede e poi proietteremo questo questo primo episodio poi noi andremo avanti a girare perché come dicevo sono otto episodi e sarà distribuito su amazon prime video dall'autunno prossimo e tutti lo potete vedere ecco e questo evento dove si terrà giugno questo evento si terrà allora e all'interno del dell'arena dell'arena estiva del cinema di noi abbiamo il dubbio è se farlo all'interno quindi o al cinema pre alpi o all'esterno però essendoci anche una sfiata di moda io punterei a giocarla sull'esterno come abbiamo fatto tre anni fa che l'abbiamo fatto nel cortile del teatro che ha avuto un ottimo riscontro quindi quest'anno cerchiamo di fare il bis sperando sempre nel tempo in che qual è la data l'avete stabilita intorno al sostizio d'estate sul discorso del tempo noi ci affidiamo alla speranza e alla fede che dall'alto arrivi la luce della luna a illuminare la nostra serata e non i rituoni ai lampi bello interessante ecco quindi poi da da settembre comincerà ad uscire la prima puntata e così via per otto puntate esatto prime video è il circuito che avete su prime video di amazon che alla fine nella realtà on demand è quello più popolare in quanto legato comunque proprio al marchio amazon quindi lo hanno un po tutti quanti e quindi nell'ottica distributiva è sicuramente il mercato migliore sono contento che anche attraverso nuovamente attraverso questa questa serie siamo riusciti a dar voce e vitrina ai tantissimi attori del territorio che che spesso non hanno non hanno plate nazionali legate a roma ma noi nel nostro piccolo insieme anche l'amico ivan brusa che ieri ha presentato l'anteprima del suo film faccio una strage al cinema pre alpi con una sala pienissima stiamo portando avanti l'idea è quella di rafforzare la nostra film commission saronno che abbiamo creato mai quasi dieci anni fa e coinvolgere più possibili artisti del territorio in modo che possono avere la loro vetrina e dimostrare il loro immenso talento ecco c'è qualche episodio che non conosceva e che ha avuto modo di conoscere durante durante la lavorazione di questo film allora o qualche episodio particolare che possiamo allora la figura di la figura di vanelli e l'ho approfondita e mi ha molto meravigliato mi ha molto stupito vedere come lui faceva un po una sorta di robin hood quando lui veniva pagato dai ricchi dai ricchi che visitava come medico infatti noi abbiamo giocato su questo il medico dei ricchi il dottore dei poveri come lui poi quando andava a trovare le tantissime povere famiglie che incontrava per non mettere neanche a disagio si dimenticava diciamo si dimenticava sotto il loro cuscino delle banconote e quindi questo gesto di pura gratuità di generosità senza cercare di prendere di prendere vanto è una cosa che mi ha veramente molto molto colpito ed è un esempio veramente ancora per tutti quanti noi un'altra figura importante è quella dell'acqua questa giovane ragazza insegnante che non ha avuto mai mai paura a scontrarsi contro chi voleva togliere la libertà un episodio bellissimo quando lei insegnante riceve la visita del preside che quasi la sgrida anche brutalmente sul fatto che lei continuasse a tenere in classe due ragazzini ebrei e lui li identifica come un problema e lei fa capire con ottima grande dialettica intelligente che il problema non sono questi due bambini molto intelligenti ma è la mentalità di questo preside tanti piccole chicche tante piccole gocce in questo in questo immenso lago che hanno che hanno portato alla nostra libertà alla nostra presa di coscienza ed è veramente importante sono contento che abbiamo che abbiamo messo anche il racconto dei bambini perché è veramente importante che senza una forma di cappello politico ci possiamo tutti quanti ritrovare su dei valori fondamentali che è quello del rispetto della tolleranza e dell'amore certo sì sì chiaro oltre a quello della democrazia per la quale per la libertà per la quale tutte queste persone hanno combattuto hanno combattuto e spesso sono morte e comunque hanno subito torture sia mentali che fisiche benissimo siamo arrivati alla fine del nostro tempo grazie luciano sirighini di essere stato con noi interessantissime le cose che ci ha raccontato avremo modo di risentirci perché un aggiornamento su questo lavoro è doveroso assolutamente quando volete io ci sono grazie molte grazie a voi buona giornata grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi